E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo a Lussingrande sull'isola di Lussino per visitare questo piccolo paesino. Questa qui è l'entrata di l'insenatura e andiamo subito. Ecco qui Lussingrande. Questa è Lussingrande vista dall'alto e sembra veramente carina. Scendiamo a vederla dal basso. Questa qui è il campanile, la chiesa e quella lì è proprio il golfetto dove si trova il porticciolo. Scorci di Lussingrande. Siamo scesi finalmente a Lussingrande. Allora iniziamo con calma. Questa qui è la prima piazzetta. Questa qui è l'uscita dell'insenatura, la chiesa. Di qua si sviluppa il cuore di Lussingrande con il porticciolo del Barche dei Pescatori e la piazza principale. La piazza principale col porticciolo. Eccoci nella piazzetta, praticamente siamo arrivati. Questa qui è la fine dell'insenatura e questo è il cuore di Lussingrande. Questa qui è la piazzetta, qui è vista sulla chiesa e sull'insenatura. Questa qui è la fine dell'insenatura. Questa qui è la fine dell'insenatura. Questa qui è la fine dell'insenatura. Questa è la facciata della chiesa. Questa qui è la piazza di Lussingrande, vista dal piazzo antistante della chiesa. Lussingrande, il cuore, vista da questo moletto. Lì è da dove siamo venuti e qui c'è la chiesa. Questa qui è proprio il cuore di Lussingrande. Lussingrande, vista sul mare aperto da Lussingrande. Lussingrande by night, facciamoci un giro anche in notturna di questo magnifico paesino che viene chiamato anche Portofino Croata. Il cuore di Lussingrande by night, c'è un piccolo concertino in quell'altra piazzettina. Questo è il porticciolo dei pescatori e l'atmosfera qui è in fronte. Il cuore di Lussingrande, vista del cuore di Lussingrande, vista del cuore di Lussingrande, con il cuore di Lussingrande, vista del cuore di Lussingrande, vista del cuore di Lussingrande. Qua siamo nella piazzetta principale, quella lì è la chiesa del 1200. Bella situazione e continuiamo a chiamare il cuore di Lussingrande. Lussingrande. Quindi ragazzi, per questo video da Lussingrande era tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!